Ok? Io ci sono Subito un ospite qui a Mattino Lombardia Uno dei tanti perché sapete che questo programma è fatto così di incontri Al mattino si sta insieme e si parla di tante cose Guida calcistica di LinkedIn Già il titolo è particolare L'edizioni editore Gianluigi Bonanomi Come stamattina? Allora Gianluigi buongiorno Buongiorno Tu sei un giornalista i tech, anche un formatore Nel senso che vai nelle aziende? Nelle aziende vado a raccontare un po' la comunicazione digitale Tutto quello che sta cambiando nel mondo dei social, della comunicazione Perché le aziende dovrebbero utilizzare questo strumento A volte trovo un po' di diffidenza su questo strumento Perché le aziende mi dicono ma scusa Gianluigi perché devi venire a fare un corso di LinkedIn Che poi i miei dipendenti scappano e mi si cercano un altro lavoro Questa è una buona domanda, la risposta qual è? La risposta è attenzione perché è vero che comunque qualcuno lo userà per quello Ma tanto se lo cercano lo stesso un lavoro Il problema è che se un dipendente sta comunicando male su LinkedIn Sta facendo un danno anche per l'azienda Prova a immaginare un dipendente che della tua azienda sta dicendo in giro che vuole cambiare lavoro Oppure condivide le cose dei competitor Oppure scrive male il nome della tua azienda Sicuramente ne avrai un danno Quindi le aziende mi chiamano e mi dicono Senti Gianluigi spiega un po' come andrebbe gestita questa cosa E lì è nata l'idea poi di creare uno strumento che in qualche modo avvicinasse le persone a LinkedIn Perché spesso viene visto come uno strumento molto lontano, molto complicato Sai, siamo tutti abituati a Facebook che è la semplicità fatta social E invece LinkedIn viene visto un po' come qualcosa di ostico Io ho detto qual è la metafora più nazional popolare che potevo prendere per raccontare questo strumento E dopo la pizza mi è venuta in mente Guarda la guida alla pizza di LinkedIn non stava bene Quindi la guida calcistica Ma se ti posso raccontare una cosa è che adesso mi stanno seguendo tutti quelli del calcio Perché pensano che sia un libro sul calcio Aiutami È stata una chiave di lettura eccezionale No in realtà appunto io uso le metafore per esempio dell'attacco, della difesa, del contropiede Pensa addirittura delle figurine per spiegare come deve essere la tua foto LinkedIn E quindi è solo una metafora Quindi ti prego aiutami a dire che non parla di calcio ma parla di LinkedIn in questo libro È molto divertente però Mi sono divertito a scriverlo Io mi diverto molto e soprattutto ho trovato delle storie molto molto carine Sì perché poi è fatta di storie Sì 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 Ne possiamo raccontare una Sì racconta tutto quello che vuoi perché è interessante Quando qualcuno si cerca un lavoro e sempre più spesso lo fa su LinkedIn Secondo me fa un errore abbastanza grossolano Parla solo di se stesso e quindi fa una comunicazione molto autoreferenziale Adesso io non vorrei un po' sminuire la cosa Però di solito chi cerca un lavoro di te, della tua storia Gli ne frega fino il giusto, scusate la parola Gli interessa risolvere il suo problema E allora qual è la corretta comunicazione che devi fare su LinkedIn O anche quando mandi un CV per trovarti un lavoro Devi parlare del problema dell'azienda Allora ho portato un esempio José Murigno José Murigno quando cercava di andare a lavorare per il Manchester United Sai cosa ha fatto? Ha creato una specie di dossier di 30-40 pagine Dove parlava dei problemi del Manchester E di come lui avrebbe potuto risolverli Tu capisci che se il Manchester riceve un dossier del genere Sui suoi problemi e di come risolverli Ti presta attenzione Beh perché non lo trasliamo su noi stessi Sappiamo che in un'azienda hanno un problema Facciamo un esempio Io mi occupo di comunicazione Io so che tu nell'azienda hai un sito che non funziona I tuoi social non ti portano contatti buoni La tua comunicazione non sta convertendo in nessuna vendita Io so qual è il problema Te lo racconto Senza svelare magari troppo Devi essere furbo in questo Ma dire io so qual è la soluzione Secondo te non ti ascoltano? Gli dici guarda hai un problema Io sono la soluzione Non ti ascoltano? Su LinkedIn è la stessa cosa Quando ti presenti Devi dire quali problemi risolvi Per chi li risolvi E come li risolvi Come Murigno ha fatto col Manchester United Mi sembra un'ottima chiave Facciamo così Ascoltiamo un disco E poi torniamo a parlare di Guida Calcistica di LinkedIn Con Gianluigi Bonanomi Ricordiamo l'edizione editore Stiamo chiacchierando con Gianluigi Bonanomi Che è un giornalista high tech E anche un formatore Guida Calcistica di LinkedIn Un libro molto particolare L'edizione è l'editore E racconta tante storie questo libro C'è pieno anche di curiosità Per esempio Il fatto che l'accolgata A un certo punto Si è messa a fare lasagne Guarda una delle leggi Immutabili del marketing E se qualcuno vuole fare Un approfondimento Che non sia il mio libro Qualcosa molto più autorevole Forse deve andare a riprendere Le 22 leggi Immutabili del marketing Di Jack Trout E a un rise Lui dice Beh sostanzialmente Tu ti devi focalizzare Uno dei problemi Della gente che si presenta Su LinkedIn E che non capisco Io cosa fai Perché fai troppe cose Non puoi come facevo io Io un tempo Facevo questo errore Dicevo ero un giornalista Ero un consulente Ero un ghostwriter Ero un blogger Ero questo Ero quello E alla fine la gente diceva Ok ma alla fine Cosa fai Non puoi essere esperto di tutto Quindi la colgate Secondo me Deve fare il dentifricio Se si mette a fare le lasagne Io le lasagne della colgate Sinceramente non le compro Eh pensa Perché ti viene in mente Il gusto della menta Fa un po' schifo Eh pensa che fa parte Del museo degli errori Del marketing Degli orrori anche Del marketing In questa cosa delle lasagne Però sono tutti esempi E tutte metafore Che possono essere utili Per collocarsi direttamente Eh correttamente Fare un discorso Sul posizionamento Fare un discorso Sulla corretta Marketing Posso dirti una cosa Che quando vado in giro A dire queste cose Del marketing La gente mi guarda schifata E mi dicono Ma cos'è una parolaccia Una bestemmia Il marketing È una cosa Per fregare gli altri E io dico semplicemente Scusate ma lo sapete Che voi fate marketing Tutti i giorni Hai mai venduto una bicicletta O una console usata Prima di presentarla Al tuo interlocutore L'hai pulita Sistemata Quello è marketing La mattina Come decidi di vestirti Quello è marketing Io non vado a un colloquio di lavoro Con la maglietta Delle Iron Maiden Probabilmente Non vengo neanche qua Con la maglietta Appunto tutta strappata Oppure Pensa quando vai a fare Un appuntamento galante Ti trucchi Ti sistemi Quello è marketing Ecco allora Il marketing È personal branding Più che altro Fantastico Dobbiamo farlo tutti i giorni Tutti noi online Allora ricordiamo Che non è un libro Sul calcio Grazie Utilizzi la metafora calcistica C'è però una foto Di Teocoli Quando faceva Felice Caccamo L'allenatore dell'Avoli Perché l'hai messa Ho trovato tutti i miei Tutti i miei riferimenti Anche dell'infanzia Perché il calcio È stato parte della mia vita Nel senso che io ho cominciato Così a fare il giornalista Andavo in Brianza Con il motorino A vedere le partite Di terza categoria Pensa che una volta Mi è capitato Terza categoria Siamo a livello oratorio Per capirci Un allenatore E ho detto Quasi quasi dai Un po' mi faccio ben volere Vado a fargli l'intervista E questo mi ha detto Sono in silenzio stampa All'oratorio In terza categoria E lì io ci sono rimasto E ho detto No vabbè Non voglio più fare Giornalista calcistico Devo fare qualcos'altro Mi sono occupato Della mia altra Grande passione Che è l'informatica Però questa cosa del calcio Ho scoperto Che ha una potenza Straordinaria Pensa che solo per questo titolo Guida calcistica di LinkedIn Adesso mi seguono Decine e decine Di allenatori Gente della UEFA Gente così Perché pensa che il calcio Sia effettivamente Il tema centrale No Diciamolo Il tema è LinkedIn È la comunicazione digitale E tutti gli obiettivi Che puoi portare a casa E su questo Io ci farei un attimo Un approfondimento Perché la gente pensa Che LinkedIn Sia soltanto un posto Per trovarsi un lavoro Ed è una stupidaggine LinkedIn è un social E in quanto social Viene Deve essere usato Prevalentemente Per fare rete E per fare rete Devi metterci impegno Tutti i giorni Sai quanta gente Durante i miei corsi Sulla ricerca del lavoro online Mi dice Ok Gianluigi sono pronto Ho perso il lavoro Adesso cominciamo con LinkedIn E io dico Peccato che dovevi iniziare Due anni fa Per avere dei risultati Adesso Devi costruirti una rete E renderti in qualche modo Riconoscibile Interessante Autorevole la tua rete Ma giorno dopo giorno Non puoi prezzare Che all'ultimo momento La gente venga da te Semplicemente perché Ti sei aperto un profilo È un lavoro Costante Visto che tutti ormai Ci occupiamo Di comunicazione digitale Esercitati sulla Content Curation Che cos'è? La content curation È La content creation Prima di tutto È la creazione di contenuti La curation è invece la cura Di contenuti altrui Non puoi permetterti Di creare ogni giorno Un contenuto nuovo Un articolo nuovo E allora prendi quelli degli altri Per far vedere che sei sul pezzo Per far vedere che Conosci il tuo settore Per far vedere Quali sono i tuoi interessi Pensa che una volta È arrivato anche un neolaureato E mi ha detto Io non voglio stare su LinkedIn Perché non ho niente da dire E io gli ho detto No sei soprattutto tu Che devi essere su LinkedIn Primo perché i recruiter Ti cercheranno Ma poi perché devi cominciare A posizionarti Fai vedere Quali sono i tuoi interessi Condividi degli articoli Fai vedere che commenti Quello che sta succedendo Nel tuo mondo Solo così Puoi permetterti Di farti notare E solo così I recruiter Ti noteranno C'è anche un sito Lo diamo Sì diamolo www.gianluigibonanomi.com È casa mia Quella è casa mia Io se posso dare un suggerimento Certo Nel mio sito C'è una sezione Di risorse gratuite Dove regalo libri Corsi Podcast Tutto quello che vogliono Quindi venite a trovarmi Bellissimo Bellissimo Io ti ringrazio Per essere venuto tu A trovare me E averti dato Degli ottimi consigli Guida calcistica di LinkedIn Gianluigi Bonanomi Che è stato con noi stamattina L'edizione è l'editore Baci Ciao a tutti